Buongiorno a tutti, mi chiamo Anastasia Cino e sto studiando per diventare un'attrice. Ho 19 anni e sono nata il 12 marzo del 2004 a Catania, in Sicilia, dove attualmente ho anche la mia residenza. Ma ho appoggi anche a Palermo, a Gagliano, a Enna, in Toscana, a Monaco, a Berlino e ad Elmstedt. La mia formazione artistica è cominciata studiando all'Accademia Internazionale del Musical, dove ho imparato a danzare, cantare, recitare e con la quale ho realizzato un cortometraggio denominato Italian Musical ed un flash mob denominato invece La La Land. La mia formazione artistica è continuata però studiando all'Accademia Buia in Sala, con la quale frequento adesso il secondo anno del corso Advanced. In questi anni ho realizzato una pubblicità che è andata in onda a livello internazionale per la Condorelli, ho realizzato un workshop con Dario Aelita e ho realizzato anche un altro workshop invece con Valentina Escobar che mi ha permesso di andare in scena con il teatro stabile. Attualmente studio quindi recitazione cinematografica, recitazione brillante, recitazione drammatica, danza e canto. Questi sono invece i miei profili. E queste sono invece le mie mani. Grazie mille, a presto!